Quando rubavamo i frontalini delle auto e in particolare delle Mercedes Quando prendevamo a calci i lampioni alla vociofila per farli fulminare Quando abbiamo smontato il dosso nella via del K2 per rimontarlo due giorni dopo Quando 15 anni fa avevamo 15 anni in meno che per l'età Quando 15 anni fa avevamo 15 anni in meno che per l'età Quando 15 anni fa avevamo 15 anni in meno che per l'età di merda Dopo i 15 anni E non riavremo più questi 15 anni dopo i 15 anni Quindi Grazie a tutti.